Secondo alcune fonti, il culto di Vesta a Roma è stato fondato da Romolo, secondo altre da Numa Pompilio, ma in ogni caso tutti concordano sulla fondazione del culto agli albori della città di Roma. Questo problema è un'anticipazione di un discorso che affrontiamo meglio fra poco. L'aspetto caratteristico di questo culto a Roma, rispetto alla Grecia, è che a Roma vi erano sei sacerdotesse, chiamate Vestali, le quali custodivano il fuoco sacro alla Dea e dovevano badare che questo fuoco non si spegnesse. Se esso si spegneva si interpretava come una grande sciagura per la città e lo Stato, un presagio funestissimo. Inoltre le Vestali si occupavano di altri riti, tutti legati con il culto domestico. Questo delle Vestali rimarrà sempre l'unico sacerdozio femminile di Roma. Le sacerdotesse erano considerate quasi personificazioni in terra della Dea. Riprendendo il discorso della fondazione del culto a Roma, ricordiamo che la tradizione ci racconta che Rea Silvia, la madre di Romolo e Remo, era una Vestale. Quindi questo culto era sentito come già presente in area leaziale prima di Romolo e di Roma. Dunque, secondo una parte della tradizione, come dicevamo prima, il culto di Vesta fu portato a Roma da Romolo e probabilmente nel periodo Reggio doveva essere un culto privato della casa del Re e solo successivamente prenderà una valenza statale, pubblica. La Reggio, infatti, come abbiamo detto prima, doveva comprendere una zona, che poi si distaccò e divenne la casa delle Vestali vera e propria, che in origine doveva essere destinata alle donne del Re, cioè la moglie e le figlie del Re, che si occupavano loro stesse del fuoco sacro. Prima degli ultimi scavi dell'equip di Carandini, i materiali più antichi erano stati ritrovati negli anni Trenta nel cosiddetto Pozzo B, che è un pozzo arcaico presso il Tempio, che aveva restituito dei materiali sicuramente da sacrificio, in quanto c'erano anche delle tegole bruciate, databili dalla seconda metà del VII secolo a.C. fino al 580-70 a.C. Il contesto di questo pozzo era fondamentale per la datazione del culto di Vesta a Roma. Però da qui erano usciti fuori pochissimi materiali più antichi, risalenti a quella che si chiama fase o periodo Laziale III B, ovvero all'VIII secolo, intorno al 750, che non furono presi in considerazione perché si pensava fossero fuori contesto. Quindi quello che si riconosceva come materiale più antico proveniente da quest'area era datato alla seconda metà del VII secolo. E la maggior parte degli studiosi ha affermato che il culto di Vesta a Roma comincia in questo periodo, il che vuol dire che Roma divenne una città-stato in questo periodo che è il periodo dei Tarquini. Con gli ultimi scavi, quindi, che hanno continuato il rinvenimento dei materiali più antichi, portando alla rivalutazione di quelli portati alla luce negli anni Trenta, si tende a datare il culto di Vesta all'VIII secolo, sostanzialmente concordando con questa tradizione. Inoltre, a sostegno di questa datazione, c'è anche la scoperta che hanno fatto sempre gli archeologi di Carandini di un muro perimetrale che delimitava il santuario, datato appunto all'VIII secolo, che giaceva nascosto sotto il vigus veste. Quindi poi, con la Repubblica, come abbiamo detto, il culto e il sacerdozio divennero statali, e le vestali numero di sei, ma in origine erano due o quattro, venivano prese dalle famiglie patrizie. E venivano prese da piccole, tra i sei e dieci anni. Dovevano rimanere in servizio per trent'anni, durante i quali erano obbligate alla verginità, perché dovevano essere pure come pura era la Dea. La maggior parte di loro, ovviamente, quando arrivavano a quarant'anni, anche se erano sciolte legalmente dal servizio, restavano comunque sacerdotesse in quanto considerate già troppo vecchie per potersi fare una vita. E quindi c'era questa tendenza a non abbandonare mai il sacerdozio. L'unica sepoltura di una vestale che conosciamo è Attivoli, e risale al II secolo d.C. Appartiene ad una sacerdotessa rimasta tale fino alla veneranda età di settant'anni. Fu sepolta con una bambola di legno, segno della sua eterna natura di ragazza pura, che non ha mai conosciuto il matrimonio e il sesso. Se le vestali infrangevano la regola della castità, come punizione venivano sepolte vive, quindi era una pena di morte atroce. Inoltre per l'uomo che contribuiva alla violazione di una vestale, c'era la morte per fustigazione nel comizio, cioè il luogo del foro romano dove si svolgevano le attività politiche e giudiziarie. Come compenso per questi sacrifici, le vestali avevano grandi privilegi, in senso economico ma anche nella vita pubblica, in quanto avevano posti riservati a teatro, potevano girare per la città con il carro, potevano fare testamento e testimoniare in tribunale e potevano disporre di una tomba all'interno del pomerio, cosa eccezionale perché le necropoli erano poste fuori dalla città. Non erano più soggette alla potestà del padre, ma in parte a quella del pontefice Massimo. Erano considerate talmente sacre che se un condannato a morte incontrava una vestale il giorno della sua condanna veniva aggraziato. Questo è il tempio, che è una pianta circolare. Presso il tempio ci sono dei resti di quello che sembrerebbe un saccello, databile alla seconda metà del VI secolo, intorno al 550-530 a.C. Per saccello si intende un piccolo luogo di culto, spesso a cielo aperto, che può essere per esempio un piccolo recinto con un altare. Tuttavia non si capisce bene se possa essere un saccello di vesta, anche perché non è circolare come il tempio. Quello che finora è sicuro riguarda il tempio vero e proprio è che con gli ultimi scavi è stata trovata una fossa di fondazione di andamento circolare del V secolo a.C. E sopra questa fondazione sono stati trovati dei resti di un podio circolare, in blocchi di tufo di grotto scura, pertinente al tempio del IV secolo. Quindi abbiamo due fasi più antiche successive, che sono le uniche che conosciamo prima dell'età imperiale. Delle fasi precedenti all'età repubblicana ci sono degli indizi dagli archivi di scavi precedenti, come foto in bianco e nero degli anni trenta, che mostrano strutture circolari in cappellaccio e che potrebbero appartenere a un tempio molto più antico di quello datato al V secolo, ma gli ultimi archeologi ancora non hanno indagato su queste strutture. Poi ci fu una ricostruzione in età imperiale. Quello che vediamo oggi corrisponde all'ultimo restauro, eseguito da Giulia Domna, che era la moglie dell'imperatore Settimio Severo, dopo l'incendio del 191 d.C. D'altronde il tempio era sempre a rischio di incendi, visto che nella cella, anch'essa circolare, era custodito il fuoco sacro perennemente acceso. Il centro del tetto, di forma conica, molto probabilmente era aperto, per permettere la fuoriuscita del fumo. Una parte della costruzione marmorea è stata rialzata alla metà del Novecento, servendosi dei frammenti originali e completando con dei resti intravertino. Questo tempio ha un po' di un'opera cementizia rivestito di marmo, al quale si addossano le vasi delle colonne corinzie, di cui rimane ben poco. Nel podio vi è una cavità trapezoidale, alla quale si poteva accedere solo dalla cella, che è stata identificata come il Penus. Il Penus era la parte più sacra del tempio, alla quale potevano accedere solo le vessali, e dove si conservavano le derrate e le ricchezze del tempio, cioè una serie di oggetti sacri, che secondo la leggenda Enea aveva portato con sé da Troia, tra cui il più importante era il Palladio, simulacro arcaico di Minerva.